è un show 2022 qui sullo stand seac con Dante Nocetti direttore tecnico seac ciao ciao buongiorno a tutti è un piacere avervi qui con noi nel nostro stand come vedete vi presenteremo delle nuove prodotti che stiamo lanciando attualmente sul mercato so I'm here with Dante Nocetti who is the technical director of seac and he is going to present us quite some new products by seac Dante potremmo iniziare con la nuova gamma diciamo arbalete che io già conosco un po' perché me ne hai parlato ieri e che ha veramente tante novità Dante we start with the new spearguns line which I have already seen and it's really interesting questo fucile è la versione chiamiamola entry level di questo fucile completamente nuovo impugnatura completamente nuova le caratteristiche principali sono costituite proprio dal castello e dal meccanismo completamente in acciaio inox ok so this is the target and it's the entry level we could say of this new spearguns line by seac the first aspect is the release mechanism the complete meccanism is 100% steel and steel cos'ha poi di particolare questo meccanismo una leva molto lunga quindi lo sforzo che si ha su grilletto quando si spara è molto bassa anche con un carico degli elastici molto elevato un'altra caratteristica è lo sgancia sagola che può essere facilmente dall'utente posizionato a destra o a destra o a destra semplicemente rimuovendo e reinserendo la vite sul castello as you can see there is a simple screw to position right and left the release lever the line release lever on the on the meccanism poi altra caratteristica una sicura che posizionata in un modo che l'utente facilmente senta se la sicura è ingaggiata oppure meno e quindi non rischi di dover sparare con la sicura inserita this is very interesting I must say that sec because one of the key problems of the security system safety system security systems is the fact that yes there are many solutions where you can feel while holding the speargun that the security is on or off but this one here is probably the most interesting one because you actually have this lever here before the trigger so you actually could actually not really shoot with the security system all un'altra finezza di questo fucile è avere all'interno dell'impugnatura un inserto in gomma per prevenire il rumore che fa la leva quando scende invece che picchiare contro la parte rigida dell'impugnatura va ad adagiarsi su un inserto in gomma morbida and this is another very important aspect of the release mechanisms because inside the handle of the system there is a rubber element and so once the shot is produced the lever goes down on the rubber not on metal and solid elements so the noise is totally almost cancelled and we know how important it is to be very silent when shooting because the fish are very quick in hearing and moving away from the shot altra cosa che capita spesso per non curanza o comunque per il fatto che si lega il fucile sotto la boa eccetera eccetera che si possa rompere questo anello quindi abbiamo pensato anche a quello semplicemente rimuovendo una spina l'elemento di aggancio può essere facilmente sostituito quindi chi volesse smontare il meccanismo per fare manutenzione semplicemente rimuovendo queste due spine dedicate proprio esclusivamente al fissaggio del meccanismo può rimuovere e reinserire il meccanismo senza avere il fastidio di perdere i pezzi all'interno del meccanismo quindi nessuna molla verrà persa il meccanismo e il grilletto rimangono in posizione noi sappiamo che normalmente quando si smonti il meccanismo di meccanismo di meccanismo ci sono alcuni elementi che possono farlo mentre con questa soluzione Zag ha solo un pin per meccanismo di meccanismo e il meccanismo viene in un bloc quindi non ci sono alcuni spunti o nulla di spunti e questo è un modo molto facile di prendere questo posto qui anche l'appoggio sternale che è un altro elemento che può rompersi per non curanza oppure quando un fucile cade eccetera può essere facilmente sostituito con la stessa spina rimuovendo la spina si sostituisce anche questo pezzo il fusto è un fuso in alluminio da 28 mm rinforzato con un guida asta superiore e un'altra nervatura inferiore per aumentare la rigidezza del busto venendo invece alla testata abbiamo una testata di tipo aperto a due fori quindi per ospitare fino a due elastici circolari con un intelligente sistema di blocco del monofilo in gomma quindi quando uno effettua il caricamento del filo e deve fare le passate è facilitato nel fatto che appena lo passa dentro il filo si blocca e rimane in posizione ok ok so the muzzle as you can see is open track with double circular bands possibility and there is an interesting solution by SEAC with this central part which is a rubber element and the line can be just passed here it can be kept in its position here it doesn't slow down the shot at all of course it's just a minor blocking here but it's very useful when reloading the spear gun or in tough sea conditions where of course the waves can somehow take the line from its position this is a very useful solution completano l'allestimento un elastico power blue da 16 mm con ogiva articolata e un'asta taitiana da 6,25 mm attacche so the blue power band 60 mm and a 7,25 mm shaft taitiana shaft somehow are the last elements to describe on this new interesting spiega but of course as you said this is the base this is a bit of a difference we have a version that we can say the same in version camo in version camo we have some elements we have to explain the differences with the target version version let's start with the impugnature this impugnature it differs from the other for the tornisi right which is a maximum in one case this is the front whatever then Stri по shown in落 this is a hand I have on the all stem che evita lo strisciamento della leva sul grilletto, quindi al posto di avere un attrito di strisciamento avremo un attrito volvente sul meccanismo interno. Inoltre, con il supporto di strisciamento di strisciamento, quindi un atti-slippolo di strisciamento e probabilmente uno più importante elemento è che in generale al meccanismo hai una ruota di ruota che riduce la frizione perché la frizione trasforma da strisciamento e l'altro aspetto di questo fucile è che monta di serie il mulinello. Abbiamo il reale standard di questo Speargun. Quindi per dare una maggior potenza in fase di rilascio è quello superiore esterno che è un cover protettivo per anti-invecchiamento. Un altro elemento molto importante sono queste nuove rubbre che sono chiamate 3 Power perché hanno tre strade di rubbre. L'interno, come potete vedere il blu, è il più reattivo. L'intermediato è il più elastico. E poi c'è un livello che è un livello protettivo dal sole e ogni agente esternale. Questi elastici sono equipaggiati con ogive in Dainima che vanno poi ad ingaggiare su un'asta tipo Shark, quindi su cui monta un'asta Shark con le tre pinnette per varie misure, due pinnette su visure più corte e diametro da 6,5. Abbiamo le dainima wishbones e poi abbiamo un shaft con 6.5mm, il shaft Shark, il shaft è per il filo di Shark, che può essere, dipendendo dal lungo e dal tipo, due o tre fili di Shark. Il camo si differenzia dal fire solo per la livrea che è mimetica, quindi abbiamo sicuramente un mimetico universale, grigio e nero, che va bene su qualsiasi fondale. Il camo è il camo, ma come vedete, è una camo versione, camo flabish versione, che Dante è dicendo che è un colore generale che può adattare a quasi ogni seafloor. Grazie. 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 Grazie.